Cari studenti, buonasera. Oggi vorrei presentarvi alcuni aspetti del simbolismo. È una corrente artistica e letteraria nata in Francia, verso la seconda metà dell'Ottocento e poi diffusasi un po' in tutta Europa. Si oppone il simbolismo al realismo, al naturalismo, a tutto ciò che tendeva a rappresentare il mondo esteriore in modo fedele, oggettivo, come abbiamo anche visto appunto nel verismo italiano. Invece il simbolismo si rifà alle correnti irrazionalistiche, che sono l'opposto della filosofia positivista basata sulla ragione. Il simbolismo riprende invece ciò che è irrazionale, interiore, anche fantasioso, ciò che viene percepito non con la ragione ma che viene percepito con la sensibilità e che viene più che altro, diciamo, intuito. E da qui anche il nome simbolismo che richiama appunto il concetto di simbolo, perché per i poeti simbolisti la realtà non è altro che una selva di simboli in cui noi ci muoviamo e quindi ogni cosa rimanda a qualcos'altro che custodiamo nella nostra anima e spesso gli oggetti, le situazioni del reale, sono appunto simboli di sensazioni ed emozioni interiori. E quindi il simbolismo, che dà grande importanza alla suggestione fantastica, ai sogni, ad allusioni simboliche, è una corrente artistica, ecco, quindi non solo letteraria, che si oppone, proprio inizia un'inversione di tendenza, rispetto al naturalismo e alle correnti positivistiche, pur essendo contemporanea, perché siamo per entrambi questi aspetti sempre a fine Ottocento. I maggiori rappresentanti del simbolismo sono i poeti maledetti, vissuti per lo più a Parigi a fine Ottocento. Il loro precursore, il loro poeta ispiratore, è però Charles Baudelaire. Baudelaire pubblica la sua opera, I fiori del male, le fleurs du mal, nel 1857. Quindi Baudelaire è un autore di metà Ottocento, precursore dei simbolisti, dei cosiddetti poi poeti maledetti, perché appunto di una generazione precedente, però già in lui sono presenti gli elementi principali della poesia simbolista. E come esempio emblematico di queste idee, vi ho proposto appunto la lettura di alcuni versi tratti dalla poesia Corrispondenza, che poi vedremo meglio tra poco, in cui Baudelaire dice Ecco quindi che la natura è qualche cosa che diventa simbolo di esperienze interiori, di emozioni, di idee, flash, immaginazioni, che possiamo percepire come in un lampo e non oggettivamente capire a fondo. E quindi vedete confuse parole, pilastri viventi sarebbero probabilmente appunto, si riferisce agli alberi, quindi pilastri viventi, vedete anche un uso del linguaggio poetico molto suggestivo, e tutto è simbolo, è foreste di simboli, di cui il mondo è popolato. Ecco quindi questa poesia può essere proprio considerata anche un manifesto della poetica poi dei simbolisti. E stiamo vedendo questo argomento perché questi poeti influenzeranno molto la letteratura, la poesia in particolare europea, e in Italia il prossimo autore che andremo a vedere insieme che è Giovanni Pascoli. Ma andiamo a vedere adesso alcuni dei poeti maledetti, dei simbolisti appunto. E vi dicevo il precursore è Charles Baudelaire che vive però a metà, diciamo, a cavallo dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento. E poi ci sono Mallarmé, Verlaine e Rimbaud. E sì, vedete, vivono nella seconda metà dell'Ottocento, tutti quanti hanno una vita piuttosto breve, e proprio anche per il loro stile di vita, uno stile di vita piuttosto controtendenza rispetto ai canoni della vita borghese, del benpensare del secolo. Ora, Mallarmé non è proprio inserito tra i cosiddetti poeti maledetti perché ha una vita, per quanto comunque piuttosto breve, meno, diciamo così, ribelle, meno anticonvenzionale di Rimbaud, di Verlaine e di altri. Però per affinità cronologica e anche di tematiche poetiche che viene spesso inserito insieme agli altri due. Ecco, qua c'è l'immagine proprio di Baudelaire, che è il precursore, come vi dicevo, e qui Verlaine e Rimbaud. Vedete che al centro c'è l'immagine di un opuscolo pubblicato da Verlaine, ovviamente, eccolo qua, nel 1884. Vediamo se riesco, scusate, ma non riesco in grandì. Ecco, così si vede un po' meglio. Vedete, è di Paul Verlaine, questo opuscolo di poesie, e contiene testi poetici, una sorta di piccola antologia, di alcuni dei cosiddetti poeti, poi definiti maledetti, poeti modi, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé. E' proprio da qui che nasce il nome di poeti maledetti, perché loro stessi si sentono esclusi, emarginati da un mondo, dai valori di un mondo borghese, che non li accetta e che si stessi non capiscono, cercano qualche cosa di più profondo, qualche cosa di più appagante, qualche cosa che dia più senso alla vita che la mera razionalità. E quindi vivono con altri schemi, per cui la figura del poeta maledetto è una figura di emarginato, per questo spesso si dedicano a vizi sfrenati, droghe, alcol, vita notturna, anche nei quartieri un po' bohemian, appunto vengono definiti, quartieri degli artisti, dove si viveva prevalentemente di notte, nei locali notturni di Parigi, sotto Montmartre, quindi nella zona di Pigalle, dove ci sono ancora, per esempio, le Moulins Rouge, quartieri di questo tipo, con molta vita notturna, artistica, ma anche, insomma, anche erotica, anche dedita proprio ai vizi e ai piaceri del mondo, cosa che ovviamente non rifletteva quelli che erano i valori della borghesia, morigerata e ben pensante dell'epoca, quindi sono una generazione di intellettuali emarginati. E in questo si può dire che siano precursori della condizione dell'intellettuale, poi nel Novecento, perché con loro inizia in pratica il decadentismo, il cosiddetto decadentismo, che già dal nome stesso fa percepire come, insomma, la letteratura si avvie verso una forma non di decadenza, come dire, culturale contenutistica, ma verso la crisi proprio dei valori ottimistici del positivismo, del verismo, del naturalismo, quindi non solo la letteratura, ma la cultura in sé, l'intellettuale diventa qualcuno che si sente escluso dalla società, non più guida come un tempo, non più rispettato e guida, ma escluso ed emarginato dalla società e questa sarà la condizione che l'intellettuale proverà in genere poi per tutto il Novecento. Quindi se le due correnti di pensiero e con le loro espressioni, manifestazioni artistiche letterarie, quindi sia il positivismo sia il decadentismo, sono a fine Ottocento contemporanee, però va detto che poi in arte e letteratura la corrente decadentista irrazionalistica avrà vita molto più lunga nel Novecento, forse anche grazie alle grandi tragedie, grazie a causa delle grandi tragedie come le guerre che sono avvenute nel Novecento e che quindi hanno fatto effettivamente crollare in buona parte le speranze ottimistiche del positivismo di fine Ottocento. Ecco qua, in questa mappa moderna di Parigi, ho presentato quelli che sono proprio i quartieri principali dei bohemian, vengono definiti appunto questi artisti anche, che vivevano in modo, vi dicevo, molto anticonvenzionale in questi quartieri, allora quartieri in cui si poteva trovare un attico in affitto, una soffitta o un affitto a pochi soldi, loro erano generalmente squattrinati perché appunto facevano una vita un po' di strada, un po' particolare e quindi vivevano in queste zone che allora non erano affatto come oggi zone di lusso e molto ricercate perché adesso per esempio sono alcuni dei quartieri più turistici di Parigi, quello del Basilica del Sacro Cuore a Montmartre e davanti c'è il famoso locale Le Moulin Rouge e quindi sono i quartieri di Montmartre e Pigalle. Ecco qui avete in questa immagine un esempio della vita notturna del Parigi dell'epoca è un quadro del pittore Toulouse Lautrec che appunto nel 1889 rappresenta Dance au Moulin Rouge un ballo proprio al Moulin Rouge per l'epoca qua c'erano le ballerine che ballavano al Can Can insomma era una cosa scandalosa per la borghesia ben pensante nonostante poi fossero uomini borghesi in realtà la maggior parte di quelli che frequentavano questi locali però vedete appunto una vita un po' diversa da quella del quotidiano trantran di tutti i giorni sia del popolo sia della borghesia. Ed ecco qui una foto dell'esterno del Moulin Rouge oggi, ci dicevo c'è ancora era un locale molto frequentato dai poeti bohemian poeti maledetti che poi danno vita appunto alla poesia simbolista erano poeti assoluti per l'immaginazione e nell'espressione e quindi mal visti anche dalla società perché è lontani proprio dalla cultura borghese dalla sua ipocrisia dalle sue convenzioni sociali dalle sue rigide regole dagli orari insomma del lavoro e dal rispetto delle regole della vita diciamo di tutti i giorni erano un po' degli artisti geniali pazzoidi vi dicevo dediti alle droghe all'alcol ad ogni genere di vizio e si ritrovano proprio a Parigi sono comunque per la maggior parte francesi ma Parigi di fine ottocento era la capitale proprio europea degli artisti che vi giungevano un po' da tutto il mondo giovani artisti in cerca di avventure di novità e di scambio proprio anche culturale di nuovi modi di espressione di esprimersi e Parigi offriva dalla seconda metà dell'ottocento proprio fino all'inizio del novecento è stata una grande capitale artistica e culturale perché offriva distrazioni e tutto quello che in ogni angolo della strada soprattutto a Montmartre potevano sognare dei giovani che avevano sogni e ideali di cambiare un po' anche le cose e di cambiare anche il modo proprio in cui l'arte era concepita e si esprimeva e quindi si ritrovavano di notte soprattutto nei club danzant nei locali notturni a bere assenzio a fumare oppio e questi erano gli artisti poi c'erano anche ricchi annoiati anche borghesi che di notte andavano alla ricerca di qualche avventura un po' diversa quindi il piacere facile con le prostitute e al Moulin Rouge a vedere le ballerine ballare il cancana un po' di scinte diciamo in modo scandaloso per i costumi dell'epoca non so se avrete visto forse anche il film proprio fatto sulle Moulin Rouge e infatti se non l'avete visto comunque potete immaginare questa è un'immagine in cui appunto ci sono le ballerine che stanno facendo uno dei loro dei loro numeri e qua è Montmartre sempre sono immagini di oggi ovviamente di giorno oggi è diventata una zona vi dicevo rinomata e vedete comunque viene mantenuto questo ricordo della presenza degli artisti ci sono ancora nella piazza davanti alla basilica del sacro cuore molti pittori di strada artisti che con bancarelle tengono viva questa tradizione di strada